Una situazione caotica, quella che si respira a Lazio da qualche mese, l'azienda per il diritto agli studi universitari per molti ha navigato a vista ultimamente, anche se le cose sembrano andare meglio. Il PD ha provato a fare il punto della situazione in una conferenza stampa alla quale ha partecipato l'avvocato Gianluca Cervale, membro del CDA. Ci sono in corso controverse giudiziarie, come è noto l'ex direttore Paola Di Salvatore, era stata messa alla porta ma ha vinto il ricorso, nel frattempo c'è stata la nomina dell'ingegner Michele Suriani come direttore. E dunque, al momento nonostante l'appello, sulla carta ce ne sono due, mentre il presidente facente funzione Antonio Pensac ha sostituito nelle funzioni l'ex presidente Eliana Morgante, che ha scelto di candidarsi alle regionali. La situazione è molto confusionaria, ci sono delle cose che vanno in via di definizione, soprattutto nella gestione del conflitto che si è creato fra il CDA e la gestione amministrativa direzionale dell'azienda. Si sono state trovate delle soluzioni che non mi trovano totalmente d'accordo e vedremo però come finiranno queste questioni che sono tra l'altro oggetto anche di controversie giudiziari. Sicuramente è una situazione caotica che è frutto di una gestione poco accorta dell'azienda. Per l'avvocato Gianluca Cervale però ci sono altre questioni, vengono sbandierati come successi, vicende che invece arrivano a 5 anni dall'insediamento del CDA, come per la casa dello studente. Di fatto si certifica, non un successo secondo me, ma una sorta di fallimento di quello che è stata l'amministrazione negli ultimi 5 anni dell'azienda, perché a 5 anni dalla nomina del CDA oggi arriviamo a vendere come un successo l'avvenuta permuta, che di fatto certifica che noi non avremo prima del 2028-2029, se tutto va bene, una casa dello studente ricostruita nella città dell'Aquila, perché siamo all'anno zero per quanto riguarda l'avvio del processo di ricostruzione.